Un lavoro stabile, un matrimonio apparentemente felice, lungo oltre 25 anni, due figli, uno Mario impiegato all'aeroporto di Pisa, l'altra Alessia appena diciottenne, venerdì avrebbe dovuto sostenere la prova orale degli esami di maturità al liceo scientifico Pitagora di Rende. Un quadro familiare perfetto, nel quale però improvvisamente qualcosa si è inclinato, tanto da spingere Giovanni Petrasso, 53 anni, assistente capo della polizia penitenziaria, impiegato al carcere di Cosenza a puntare contro la moglie, Maria Grazia Grosso, la sua pistola d'ordinanza. Lei ha provato a rifugiarsi in bagno, ma non ha avuto scampo, il marito le ha scaricato addosso cinque proiettili sotto gli occhi della figlia Alessia. Il padre le ha detto di chiudersi in camera, poi si è tolto la vita. La tragedia si è consumata a Montalto Scalo, in via Alessandro Volta, è stata la ragazza sconvolta a chiamare i soccorsi, prima il 118, poi il 112, sul posto, è giunto anche l'elisoccorso nella speranza che l'uomo fosse ancora in vita. I sanitari invece non hanno potuto che constatarne la morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Rende, agli ordini del capitano Maieli e dal magistrato di turno Antonio Bruno Tridico. Il movente potrebbe essere di tipo passionale, a quanto pare la coppia da tempo non era più in sintonia, i malesseri erano frequenti. Secondo alcune indiscrezioni la donna meditava la separazione. Petrasso era stato in congedo per stati d'ansia, una patologia frequente tra gli agenti penitenziari. Giudicato idoneo al lavoro dai sanitari, proprio ieri era tornato in servizio ed aveva ritirato la pistola d'ordinanza, l'arma con la quale ha sfogato la sua furia omicida. Salvatore Bruno per la Cineus 24